Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono JoviX04 signori E oggi vi do il benvenuto su Five Nights at Freddy's Revriten 18-7 signori Stiamo qui su questo nuovissimo gioco perché a quanto so è uscito da poco E soprattutto signori è stato anche aggiornato da poco Cioè praticamente esce e gli fanno subito un update Un update che neanche io so di cosa signori Ma io dico adesso solo una cosa Let's go Ok signori ci siamo ci siamo Allora A e D per girarsi Wow cioè wow E' un FNAF 2 remake letteralmente Cioè ma che figata è Che figata è Allora abbiamo i tastini qua Per la maschera E' Wow E' fighissimo Cioè non ho parole signori Non ho parole con la F Vabbè come il classico FNAF 2 E' fighissimo Che è Oh 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 Ma ciao amichetti Come state? Beh di certo così siete più carini Sì 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 come no Oh Oh Bonni Allora Bonni Sai bene che abbiamo dei contratti Già in precedenza no? Ti ricorderai di qualcosina Sono tipo le telecamere del nuovo FNAF Tipo che sta per uscire FNAF Plus Eh E' assurdo Allora Non abbiamo potuto contattare L'ingegnero Bisogna stare attento qua Non vorrei che Qualcuno Vi venga Già pronta Ad attaccare Allora Io non per dire carissimi Ma io mi guardo E qui non va E qui non va Che cosa significa? Ciao Mangold Tutto a posto Il Puppet Il Puppet Il Puppet Il Puppet Come si fa a ricaricare? No ma ragazzi Ma qui la music box Non si sente C'è tu i freddi lì Che non ho capito Tu i freddi Amico mio Allora So che anche tu Qui siamo Ah Bonni 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 Dove credi di andare? Di là non è Non c'è la pizza di là eh Di là non c'è la pizza Ma adesso Controlliamo subito Però porca miseria Signori È complicatissimo Cioè Non è facile ragazzi Non è facile Uuuuh Ma ciao amici miei Comunque no Perché Oddio Cos'era quel flash Madonna mia signori Porca miseria Allora Allora Calmi 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 un secondo Calma e sangue Freddo Per tutto questo Bonni dove sei? Ragazzi Sono preoccup Sono preoccup Sono preoccup Per Bonni Chica 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 eh Giù Chica Maschera Maschera Ok Non so se me la posso togliere Ragazzi Oddio mio Via Ok Mi sa che Bonni è ritornato Dov'è? Chica Ce l'abbiamo davanti No ragazzi Devo pure ricaricare Devo pure ricaricare Vai 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 Ricariciamo Ricariciamo Ma Ma che rischio signori Ma che rischio Però è bellissimo Troppo bello Allora Cameras Io non ho ancora capito Perché nelle venti Io non mi possa vedere Ok Vabbè Ovviamente perché dovevamo Illuminare noi Me ne sono accorto Eh Sono bravo Giovi Mi ricordavo che Su FNAF 2 Signori Almeno Leggermente si poteva vedere Però porca miseria no Non ti muovo Non ti muovo Dai 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 Su Maschera Pucca miseria Chica Come osavi attaccare Il tuo padroncino Il tuo Giovixiano preferito Il tuo guardiano preferito Eh Vi è piaciuta la battutona Sei una battutona squallida Però vabbè Ah vedi il Giovix com'è no Tanto fa battutone così proprio Tanti che ricarico Tanti che ricarico Ragazzi ma in tutto questo Non so neanche Che diavolo di ore sono Non so se riesco a resistere Fino alle 6 in questo posto In questo Freddy Freddy ciccio Guarda che sono qui davanti Eh Non è che io sono Di là dove stai guardando te Allora 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 Caro mio Pappettino Caro mio Pappettino Chi c'è nei condottini Per fortuna Non c'è nessuno Rumore Oh 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 Chi è che sta arrivando Vedere nei condotti Assolutamente Bonni Bonni Ci risiamo Ci risiamo Bonni eh Non di nuovo Non ti oso L'officino Mi sta a significare Ma ciao Ma ciao Snap 2 Snap 2 Signori Mamma mia Che ricordi Comunque Porca miseria Cioè È fatto proprio Proprio bene Complimenti ai creatori Cioè È assurdo Allora 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 Però io non vedo Nessuno Per il momento Chi apparirà Chi apparirà Adesso vediamo No però Devi andare di là Oh Ok Oh Adesso è cambiato il menu Ragazzi Ma È apparso Foxy Ma sapete cosa vi dico Signori Lo proveremo In un altro episodio Ragazzi Io dico che Questo video Si può concludere Qui signori Vi ricordo ovviamente Di lasciare un bellissimo Mi piace A questo video E soprattutto Anche un commento Qui sotto E Ragazzi Ricordatevi sempre Di premere il tasto rosso Iscriviti Detto questo Noi signori Ci vediamo Ad un prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti